Ciao, sono Aurora, nego da Firenze e per me oggi è stata una grossa emozione questa giornata di GMG. Abbiamo iniziato con la riconciliazione che mi ha preparato a questo momento, a questa Via Crucis che poi ha fatto percepire le sofferenze di Cristo e penso sia anche perché ha parlato molto ai giovani, ha parlato molto dei nostri problemi, di quello che proviamo, anche raccontando delle storie vere. Sono Filippo, ho 22 anni, vengo da Grosseto, è un'esperienza che non ho mai vissuto in vita mia, è veramente qualcosa di paradossale, riuscire a vivere questa esperienza di fede in un contesto, diciamo così, internazionale è qualcosa che veramente mi tocca al cuore. Sono Fausta, vengo da Siena, è la prima volta che partecipo a una GMG e non sapevo nemmeno che esistesse fino all'anno scorso, quindi per me vedere un sacco di persone così riunite insieme per qualcosa di così grande mi riempie veramente tantissimo perché credo che sia qualcosa che veramente ci unisce più di qualsiasi barriera, no? È bellissimo vedere le bandiere tutte insieme, tutto qua per lo stesso motivo.